Buongiorno, volevo darvi alcune informazioni su quello che viene chiamato il Bando Sud o il concorso coesione. Quindi stiamo parlando dei 2800 posti a tempo determinato che verranno messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni in otto regioni italiane proprio per aiutare le politiche di coesione. Il Formers ha attivato la pagina Facebook ufficiale del concorso, il nome è concorso coesione Formers PA dove troverete tutta una serie di informazioni utili a capire i dettagli di questo concorso ed eventualmente quali sono alcuni requisiti per potervi partecipare. Su questa pagina Facebook trovate un link che vi collega ad un documento dove sono indicate quelle che vengono chiamate le domande più frequenti, quindi l'inglese sono quelle che si chiamano le frequent ask questions. Una delle risposte che troverete riguarda i titoli di studio necessari per partecipare a questo concorso pubblico. Bene, la laurea triennale è il requisito minimo per poter partecipare a questo concorso. Ovviamente tutti gli altri titoli, ad esempio la laurea magistrale, sono assolutamente benvenuti, verranno presi in considerazione, però ricordiamoci che il requisito minimo è la laurea triennale. Sempre su questa pagina che trovate su Facebook c'è un link che vi metterà a disposizione un allegato ufficiale che rappresenta come sono stati allocati i 2800 posti tra le varie amministrazioni. Vedete che la stragrande maggioranza di questi posti è appunto nelle otto regioni, ci sono altri posti che invece sono presso delle amministrazioni centrali perché dovranno servire poi a dialogare con le amministrazioni o con gli enti che operano invece a livello regionale. Vi ringrazio, buona giornata e ci vedremo nei prossimi giorni per ulteriori nuovi aggiornamenti. Grazie.